Benvenuti tutti telespettatori di Pianeta Ciclismo e appassionati di mountain bike per un altro appuntamento con il circuito Brescia Cup 2013. Siamo a Rezzato dopo che la gara di Erbusco purtroppo è stata annullata per problemi con i permessi comunali, si ripropone di nuovo il circuito Brescia Cup qui a Rezzato con il sedicesimo Memorial Francesco Borgognoni e per la seconda volta gli organizzatori dell'MTB Italia propongono il Monte Regogna come scenario di svolgimento di questa bellissima manifestazione. Lo scorso anno un grandissimo successo, molti complimenti degli atleti per il nuovo percorso di questo Memorial Borgognoni scovato dagli organizzatori e dagli amici dell'MTB Italia e quindi riproposto anche per quest'anno con alcune piccole modifiche che nel corso della clip scopriremo insieme a Domenico Fagoni, uno degli organizzatori che è qui con noi per il commento tecnico. Domenico ti tiro subito in ballo con il cambio del luogo della partenza di questa manifestazione, una doppia partenza, la prima che ha coinvolto tutte le categorie amatoriali maschili e la categoria junior, mentre nella seconda partenza che è avvenuta pochi minuti dopo sono state coinvolte tutte le categorie femminili e gli esordienti e gli allievi. Per tutti questi atleti i giri da percorrere dopo il giro di lancio saranno uno o due a seconda delle varie categorie. Buonasera a tutti, quest'anno abbiamo deciso di spostare la partenza in una zona dove abbiamo reso più facile l'accesso alle griglie, abbiamo cercato di migliorare un po' tutto con un grossissimo lavoro di tutti i ragazzi e con il nostro amico Roberto Scalvini che dobbiamo ringraziare perché è lui quest'anno che ha ricavato cinque pezzi nuovi dalla gara. Quindi adesso gli atleti sapranno chi ringraziare per la fatica supplementare che gli avete fatto fare rispetto allo scorso anno e lo scopritore di questi nuovi tratti molto tecnici e piuttosto insidiosi è proprio Roberto Scalvini come hai ricordato tu che si è dato molto da fare per l'organizzazione di questa manifestazione insieme a tutti i vostri compagni di squadra dell'MTB Italia che hanno voluto fortemente insieme abbiamo sentito nelle dichiarazioni pre partenza anche all'amministrazione comunale questa bellissima corsa. Sì, dobbiamo ringraziare anche Emanuele Ognia che ci ha aiutato in tutti i permessi per la nostra gara e soprattutto voglio ringraziare veramente di cuore tutti i ragazzi dell'MTB Italia perché hanno svolto un vero, un grosso lavoro. È da marzo che stiamo lavorando su questo percorso con un lavoro molto intenso e abbiamo ricavato dalla boscaglia dei tratti veramente suggestivi da vedere e quando si provava era veramente emozionante. Questo è un percorso molto duro però vi consiglio magari anche per l'anno prossimo che è da provare perché più ci giri e più impari le traiettorie specialmente nei single track dove ho visto ragazzi fermarsi. Un consiglio per l'anno prossimo di provarlo e provarlo e vedrete che sarà molto meno duro. Speriamo che i bikers accettino questo invito perché il circuito è fruibile quasi interamente durante tutto l'anno e sicuramente è anche un buon percorso per fare la gamba. Come dicevi tu è un percorso molto tecnico con dei punti piuttosto insidiosi ma sentivo alcuni dei vostri ragazzi che dicevano che se un atleta conosce comunque le traiettorie giuste può farlo tranquillamente tutto seduto sulla propria sella senza incappare in spiacevoli inconvenienti come magari alcune cadute che abbiamo visto durante la gara nulla di che ma capitano e soprattutto senza dover scendere dalla sella e spingere la bicicletta perché comunque è sempre una pecca. Sì, è una cosa che volevo ricordare, mio amico Zanardelli e figlio ci siamo visti sul percorso e loro l'hanno provato 4-5 giri, anche con loro ho fatto un po' del nostro percorso e gli ho insegnato magari anche dei passaggi e ho visto che in gara loro veramente usufruendo dalle traiettorie che avevo consigliato stavano in bicicletta a differenza di tanti altri. Diciamo che tutto in sella forse lo possono fare gli atleti più allenati, più preparati perché ricordiamo anche che ci sono dei tratti che vanno al 20% di pendenza e lì non è questione di tecnica ma è questione di gambe. Sì, 20% anche di più perché quando ho provato il percorso siamo arrivati anche al 26-29%, un pezzo più duro della gara. Ecco, qua stiamo vedendo il canellone Scalvini intitolato proprio a Roby Scalvini e il tratto scoperto l'anno scorso qua, pensate l'anno scorso nel 2012, c'era tutta sterpagna, non era accessibile. Abbiamo ricevuto anche tantissimi complimenti dagli alpini che anche quest'anno ho visto molto felici di tutta questa manifestazione e hanno già anticipato di volerci aiutare tantissimo per l'edizione 2014. Abbiamo già una chicca in riservo per il 2014 molto bella. Speriamo che vada in porto, decideremo tutto a gennaio e se va in porto, ragazzi, per il 2014 è una sorpresa grande, piacevole per tanti. E passando alla cronaca della corsa, vediamo il passaggio in uno dei punti più duri del percorso. Gli atleti hanno appena finito di affrontare il tratto più ripido con quasi il 30% di pendenza e si mettono sulla strada di asfalto che porta verso la Cappella degli Alpini dove le pendenze sono tutte tra il 20% e il 24%. Quindi dovranno fare ancora molta fatica prima di ricominciare la discesa che comunque lascia ben poco respiro perché è molto tecnica. Vediamo Carlo Manfredi Zaglio che, come spesso la fa da padrone, ha preso subito il comando e dietro di lui il campione italiano Luca Botticini cerca di non perdere troppo. Ancora più indietro passano le maglie di leader del circuito Brescia Cup come Enzo Gnani e Alessio Bongioni e poi via via tutto il resto del gruppo. Un'altra grossa novità di questo 2013 è l'allungamento del percorso. Avete creato un circuito leggermente più lungo dal punto di vista chilometrico ma che si sta rivelando cospicuo come allungamento dal punto di vista del tempo di percorrenza. Ecco qua vediamo un punto dove veramente la traiettoria è molto importante anche la velocità perché se arrivi troppo agile perdi la pedalata, troppo duro ti pianti e questo qua è uno dei pezzi nuovi della nostra gara. Poi volevo ricordare anche il discorso tempo anche noi organizzatori sinceramente non pensavamo di aver allungato così tanto la gara. Infatti dopo il passaggio dei primi corridori guardavo l'orologio e vedevo che il tempo scorreva e avevano ancora più di un giro da affrontare. Sinceramente anche noi pensavamo di allungarlo di una decina di minuti ma anche Zaglio a confronto dell'anno scorso il tempo si è allungato circa una ventina di minuti e Zaglio uno che ultimamente sta pedalando molto molto forte di fatto è anche nel passaggio dove ero io. Aveva una pedalata molto sciolta e penso che è molto in forma per il campionato italiano che andrà a affrontare fra una settimana. E intanto mentre la testa della corsa sta per concludere il primo giro completo oltre al lancio ci sono già i primi arrivi sotto il traguardo, ci vengono segnalati gli arrivi delle categorie esordienti Per quella maschile ci sembra giusto sottolineare la bellissima vittoria di Leonardo Tabarrelli della TTC LGL Pro Team che ha dominato la corsa davanti a Michele Valseriati della Brescia Bike e Roberto Piccinotti del Team Nuvolento I distacchi sono abbastanza risiccati nell'ordine di 30-40 secondi abbiamo tutti e tre i primi atleti e per un percorso così duro è comunque una buonissima prestazione Mentre per quanto riguarda le esordienti al femminile, dominio di Erika Bianchi del Team Manuel Bike davanti alla compagna di squadra Alice Franzosi e a Giulia Ferrazzini della Bramati Race Team Bike Ghisalba Domenico, questi ragazzini sono arrivati a Rezzato, magari non conoscevano neanche il percorso ma li abbiamo visti, ce l'hanno messa tutta e hanno creato una grandissima battaglia un numero molto elevato di atleti giovani in questa edizione per voi penso sia una soddisfazione vedere a queste giovani leve e darsi così da fare Sì, una soddisfazione perché anche noi come MTB Italia abbiamo una squadra di ragazzini giovani che sono allenate dal nostro amico Dario e abbiamo piacere che ci sono anche i ragazzi di questa età su questi percorsi molto tecnici Infatti abbiamo visto solamente il giro di lancio e la prima discesa molto importante per questi ragazzi perché veramente in 4-5 km di gara andavano già ad affrontare circa un 300 metri di dislivello Volevo ricordare che la nostra gara ha 21 km di percorso e siamo arrivati a un 1.100 metri di dislivello quindi è molto importante come impegno Abbiamo appena parlato delle classifiche della categoria esordienti che è la categoria più bassa dal punto di vista agonistico e ricordiamo che la vostra società è molto attiva anche nel ciclismo giovanile e promozionale avete una squadra come accennavi tu di giovanissimi e insieme ad altre società organizzate un bellissimo circuito legato proprio a questa categoria Le prime due tappe sono già state effettuate la prima a Montirone e la seconda a Monticelli Brusati con una grandissima partecipazione di mini atleti oltre 100 partecipanti per ogni manifestazione quindi un movimento in grandissima crescita e mancano ancora 4 manifestazioni quindi in totale 6 gare per questi piccoli atleti ricordiamo le date e le località di svolgimento per tutti quei bambini che vogliono magari provare ricordiamo che non è obbligatorio essere tesserati per la Federazione Ciclistica Italiana quindi tutti possono venire il giorno della gara iscriversi e provare l'emozione di un circuito un vero mini circuito di mountain bike abbiamo il 31 agosto sarete a Pompiano il 15 settembre a Gardone Valtrompia il 22 settembre invece toccherà proprio a voi dell'MTB Italia con la gara di Roncadele che si effettuerà nella zona degli Alpini e il 6 ottobre gran finale a Brescia sì siamo molto felici di questa iniziativa dove il nostro amico Dario veramente con passione e voglia di far crescere i piccoli ragazzini e far amare la mountain bike io personalmente ho portato mio figlio e ho visto veramente un entusiasmo da parte di Dario a insegnare a questi ragazzini proprio come divertirsi andare in mountain bike non deve essere un lavoro proprio un vero divertimento questo mi ha reso molto molto felice infatti ultimamente ho abbandonato un po' il mondo agonistico per dedicarmi al ciclismo per i giovani mentre vediamo i passaggi della categoria femminile siamo vicini al traguardo con la junior Serena Tasca che ha preso il comando davanti a Roberta Seneci mentre per la terza posizione durante tutta la gara abbiamo visto una bellissima lotta tra Daniela Poettini e Lorena Zocca mentre Zaglio in contrastato sta volando verso il traguardo qui è uno dei tratti piuttosto impegnativi mentre poi ripassa subito sulla discesa verso il traguardo dove si invola per conquistare l'ennesima vittoria in questo circuito Brescia Cup 2013 ci stiamo avvicinando al traguardo a questo punto Domenico sono d'obbligo i ringraziamenti a tutti i volontari a tutti coloro che in questa giornata e non sono pochi hanno contribuito con il loro sforzo per mettere in sicurezza il percorso per far vivere ai bikers una splendida giornata di mountain bike senza troppi pensieri ma solo pensando a pedalare e divertirsi voglio ringraziare tutti i ragazzi dell'Emmettibile Italia che anche quest'anno non hanno corso la gara e hanno dato un grosso aiuto con parenti, amici siamo riusciti ad avere 40 persone sul percorso e penso che sia stato un vero successo di gruppo un grandissimo grazie anche al gruppo degli Alpini di Rezzato che vi ha messo a disposizione la propria sede come sede logistica per la zona dell'arrivo hanno anche contribuito all'estendo un bellissimo stand gastronomico e vi hanno dato una mano per tutto quello che sono riguardate le operazioni post traguardo sì, dobbiamo ringraziare gli Alpini come vi ricordavo prima per l'anno prossimo ci saranno grosse novità speriamo solo che vada tutto in porto e veramente sarà il top quindi, restando in trepidante attesa per quanto riguarda tutte queste bellissime novità che dovrebbero esserci per l'edizione del 2014 ancora qua Rezzato sul Monte Regogna vediamo le ultime immagini prima di passare sotto la linea del traguardo per dare le classifiche finali classifiche assolute femminile con l'arrivo di Serena Tasca a braccia alzata che vince davanti a Roberta Seneci e terzo posto per Lorena Zocca davanti alla coppia della Selleronovelle Daniela Poettini e Valentina Garattini al sesto posto Sara Bodei della Mata Team mentre arriva anche il dominatore della gara assoluta Team Bike Gussago per Carlo Manfredi Zaglio che alza il pugno al cielo in segno di vittoria secondo posto per Enzo Gnani e ottimo terzo per Isaia Algisi che precede proprio di un soffio Alessio Bongioni quinto posto per Michael Faglia sesto Nicola Bazzani dietro di lui Emil Bardini Luca Botticini Stefano Rizza e Davide Lombardi che chiude in decima posizione Pronti via e Roberta se ne è andata Sì me ne sono andata ho fatto molta molta fatica soprattutto nelle salite sono scesa a piedi parecchie volte in discesa mi sono divertita molto complimenti agli organizzatori una bella gara molto molto dura però va bene così Una considerazione sulla gara direi sei stato veramente bravo perché hai preso il via e non ti hanno più fermato Sì dopo la prima salita l'ho fatta tutta da solo la gara è piuttosto lunga rispetto alle altre però bella il percorso è bello Se hai terminato una gara così impegnativa vuol dire che sai portare la bici dove hai trovato difficoltà? Nella discesa era un po' difficile però l'ho fatto abbastanza bene alla fine Nello sport bisogna ovviamente guardare davanti contento del risultato e soprattutto una considerazione sulla gara La gara era abbastanza dura si partiva subito in salita ho provato subito a toccare già dall'inizio e ce l'ho fatta questa è stata bella dai Sei felice? perché quando uno è sul più alto del podio per forza è felice Sì sì dai Sì sì dai aggiungi qualcosa veloce davanti ai tuoi sostenitori È stato duro il primo pezzo su strada ma dopo in discesa ho guadagnato parecchio All'inizio hai un po' stentato perché Robin ti ha messo alla frusta poi cos'è successo? Robin è rimasto bloccato un pochino in discesa Un po' intruppato perché in un circuito è così e poi cos'è successo? Poi non lo so Serena Tasca la soddisfazione si vede perché esprimi con un sorriso radioso la tua contentezza aggiungi qualcosa una dedica a qualcuno perlomeno qualcosa così lasciamo a tutti questa tua contentezza Ma è stato sicuramente un bel percorso molto divertente è una bella giornata e grazie ai genitori che mi seguono e anche alla squadra Un commento a caldo a questi importanti risultati che tra l'altro ti porta a un bel livello nella generale dico bene? Sì no, sono molto contento gara fantastica tanto bella quanto dura comunque è bellissima Qui Arezzato protagonista indiscusso dove hai trovato difficoltà visto che sei un personaggio che spesso sei sul podio oggi difficoltà poche perché ho vinto basta abbiamo visto che hai fatto un bellissimo recupero due parole a riguardo Enzo Sì, devo fare complimenti agli organizzatori perché è un bellissimo percorso allora qualcosa di particolare una dedica una chicca per il pubblico giunto numeroso qui Arezzato per applaudirti Ma complimenti agli organizzatori gara durissima e niente la gara si è vista Allora gli italiani sono quando? Sono il 20 luglio a Nemi a Roma e niente siamo giusti perfetti Essere vincitore assoluto ti metti in una posizione veramente di rilievo Sì, beh come hai detto te essere vincitore assoluto fa sempre piacere soprattutto da Master 4 che abbiamo una certa età Dillo pure quanti anni hai senza paura 1 dello 5 45 45 e diciamo che l'anno scorso la gara è stata un po' più breve e i ragazzi qui dall'MTB Italia hanno pensato di farci fare ancora un po' più di fatica infatti perché sapevano che arrivavi tu va bene così io faccio lo strappo al protocollo e do il microfono a Leonardo perché Leonardo veramente non so come definirlo io volevo definirti con due aggettivi che volevo utilizzare per Natale immarcescibile e anche inossidabile ma direi bionico perché francamente signori con tre vertebre rotte bisogna solamente avere una testa veramente da Highlander per continuare e questo è Leonardo a Ricci due parole a riguardo Leonardo non so se dire che la passione ho l'incoscienza perché sinceramente con quello che è passato questa volta era proprio il caso di chiudere però però la passione è talmente tanta che anche se non sono in ottime condizioni ho ricominciato mi sono messo nella mischia mi piace l'ambiente insomma faccio volentieri ecco e sappiamo anche che sei uno tra i più importanti sponsor della manifestazione quindi questo comunque ti fa onore perché contribuisci anche tu in un momento così delicato veramente a rendere più bello tutto bravo Leonardo io vi ringrazio ma quello che faccio è piccola cosa però la faccio comunque volentieri se bene accetta ecco un grande uomo e vicino a un grande uomo c'è Natale Bettineschi piccolo a livello comunque di rapporto antropometrico quindi di statura ma grande grande perché anche Natale comunque in passato ha vissuto momenti poco simpatici io ricordo quel volo di qualche tempo fa lasciamolo perdere perché abbiamo corso assieme a Natale allora un commento a caldo sei felice perché sei sempre sei sempre in trazione no io sono felice esclusivamente per Leonardo grazie che è ritornato tra noi e basta complimenti gli organizzatori che hanno fatto un bel percorso e basta ottimo percorso impegnativo sono gratificato della mia prestazione buongiorno rezzato ancora protagonista per il secondo anno consecutivo di questa gara meravigliosa quale quinta prova della Brescia Cup è targata 2013 abbiamo terminato la prova da pochissimo abbiamo Emanuela Ogna assessora dell'ecologia del comune di Rezzato che è presente per la premiazione a lei quindi Emanuela visto che siamo in un contesto ambientale meraviglioso tra l'altro sappiamo che questa oasi fa parte del parco delle colline di Brescia ecco qualcosa a riguardo ma soprattutto i motivi per cui hanno spinto il comune ad appoggiare questa importante manifestazione organizzata dalle Metevi Italia sicuramente perché proprio per l'ambiente bellissimo che abbiamo che è fruibile a tutti l'idea di avere una gara come la vostra qui voleva proprio dire far conoscere il nostro territorio far conoscere i nostri sentieri e poi far divertire i vostri campioni perfetto assessore un'ultima battuta qui all'interno abbiamo visto diverse specie direi vegetali ce ne sono alcune in particolare ma in generale comunque sono tipiche delle colline bresciane sono tipiche delle colline bresciane infatti siamo molto ricchi proprio di fauna e flora adesso io non conosco proprio tutte le specie però abbiamo delle zone dove ci sono anche delle orchidee bellissime proprio in alcuni dei nostri sentieri c'è un sentiero che si chiama proprio il sentiero dei fiori soprannominato così perché è molto ricco di fiori di varie specie grazie assessore quindi la vogliamo presente da qui a breve per la premiazione ma soprattutto per valorizzare ancora una volta attraverso lo sport quindi un binomio meraviglioso sport cultura e natura una battuta finale l'appuntamento quindi per il prossimo anno per la terza volta consecutiva e soprattutto un saluto da parte sua a questi meravigliosi duecento che hanno scelto di passare questa domenica di luglio proprio da voi infatti l'augurio è quello di rivederci l'anno prossimo il comune l'amministrazione è assolutamente contenta e onorata di avervi qua perché la gara è sicuramente una delle più importanti e a questo punto come lei diceva un bellissimo percorso quindi io vi aspetto vi ringrazio ringrazio molto l'organizzazione perché so che ha fatto tanto ringrazio anche se mi permettete il gruppo Alpini di Rezzato perché con il loro sostegno è stato possibile proprio la location anche qui alla Casa degli Alpini e quindi grazie a tutti è un buon divertimento è una buona premiazione bene dopo l'assessore all'ecologia del comune di Rezzato la signora Onia abbiamo ai nostri microfoni Mauro Zambelli presidente del comitato organizzatore ma soprattutto una collaborazione da parecchi anni con MTB Italia unitamente a Vittorio Caciotti e anche a Gianluca Bertoli che è il nostro presidente perfetto allora la domanda di rito siete soddisfatti perché 200 concorrenti tra l'altro non sono pochi ma soprattutto sono legati anche al tipo di gara che voi assieme a Brescia Cup andate a proporre quindi un cross country molto particolare molto tecnico impegnativo che comunque da più parti hanno e ha avuto direi un plauso ecco diciamo che il plauso è quello che ci spinge tutti gli anni a cercare di far meglio è stata giudicata una gara dura forse la più dura della provincia ho sentito dire da alcuni per noi è un orgoglio sapere sapere comunque 200 persone nonostante la durezza del percorso vengono e onorano il campo di gara infatti i dati tecnici come sottolinei Mauro sono direi piuttosto severi 8 km a giro circa 350 metri di slivello a giro tra l'altro 2 o 3 giri a seconda della categoria con un totale in positivo di oltre 1000 metri comunque i diversi concorrenti da più parti hanno detto che è veramente molto bello la macchina organizzativa abbiamo notato che è veramente rodata molto diciamo capace e soprattutto un grazie come ha sottolineato l'assessore all'ecologia al gruppo alpini di Rezzato che sicuramente qui fa la sua base a proposito ecco una considerazione a caldo di questo io devo ringraziare innanzitutto appunto lo spazio degli alpini perché ci danno le strutture per fare quello che facciamo qui ma devo ringraziare anche tutti i ragazzi del nostro gruppo che si sono fatti su le maniche detto in modo dialettale e hanno costruito questo percorso andando a scoprire nuovi sentieri andando ad aprire nuove vie e a mettere in sicurezza tutto quello che è il nostro percorso quindi una conclusione dopo la parentesi di alcuni anni direi in terra ovviamente straniera siete tornati in casa e qui a Rezzato per la seconda volta consecutiva avete organizzato questa importante manifestazione all'interno del percorso comunque abbiamo visto che ci sono dei sentieri veramente molto belli e vi è tenuti ciò fa sperare che ci sia una rivalutazione e una valorizzazione dei sentieri dico bene? sì già in questo anno fra la scorsa edizione e questa più atleti comunque durante l'anno passano su queste colline ad allenarsi perché le hanno scoperte il nostro intento è appunto che nel rispetto della natura e dei sentieri continuino a passare su questi sentieri per mantenerli puliti con il loro passaggio ed apprezzarli giorno per giorno non solo nel giorno della gara una conclusione quindi un grazie particolare al gruppo di MTB Italia le vogliamo ancora ricordare il presidente ringrazio innanzitutto il presidente e tutto quello che è il nostro consiglio ma anche tutte tutte le braccia che hanno lavorato negli ultimi due mesi su questo percorso ed è la parte più cospicua perché chi ovviamente lavora nascosto è quello che veramente tira il carro grazie